Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa per annunciare gli esiti di un bando relativo agli investimenti produttivi, un bando importante che come vedete alle mie spalle è tra l'altro un bando che ha visto una partenza qualche mese fa con la vecchia programmazione che però ha avuto un importantissimo aumento di risorse all'interno delle bandi, quindi delle risorse disponibili nel port-pesre della nuova programmazione, quindi diciamo è un bando che rappresenta perfettamente l'incontro tra le due programmazioni della precedente e questa del nuovo piano port-pesre che abbiamo presentato e stiamo presentando un po' ovunque, anzi le presentazioni generali ormai sono di fatto completate e siamo partiti con la nuova programmazione. in questo momento tra l'altro è attivo il bando relativo alla ricerca, la ricerca del prodotto e lo sviluppo, è un bando da 45 milioni di euro che rappresenta diciamo l'impegno massimo che non abbiamo fino ad oggi mai applicato da un'amministrazione regionale nelle marche per le imprese ma subito dopo, possiamo dirlo a ragion veduta ormai, subito dopo c'è questo bando perché se recuperiamo la prima immagine che era presente, scorriamo, esattamente questa va bene se vediamo la prima immagine presente, vedete in alto a destra il contributo regionale su questa misura è di ben 37 milioni e 600 mila euro, anche qui quindi uno sforzo notevole da parte della regione finalizzato però a generare 177 milioni di euro in investimenti e finanziando di fatto 25 progetti che poi in realtà sono tutti i progetti presentati quindi senza escluderne alcuno e l'importanza di questo bando e quindi dei risultati che abbiamo ottenuti sono assolutamente sintetizzati in questa slide. 803 i posti di lavoro incrementati significa sostanzialmente che grazie a questo intervento attraverso i piani industriali delle aziende e ovviamente faceva parte dei requisiti per accedere ai finanziamenti sono stati dichiarati almeno, quindi tra l'altro qui ci teniamo nel numero minimo almeno 803 posti di lavoro tra l'altro come sapete bene perché saranno presenti alcune abbiamo invitato alcune ovviamente credo anche delle aziende che hanno beneficiato, saranno beneficiati di questo bando e posti di lavoro diciamo che incrementati con un numero reale nel senso che sono nuovi di fatto nuovi incremento che è relativo a nuovi posti di lavoro, quindi nuove unità lavorative quindi non sono diciamo sostituzioni o altro ma sono nuove unità, come? nuovi incrementi che appunto vanno ad aggiungersi al numero precedente di occupati all'interno della stessa azienda un bando che è incentrato, era incentrato sull'investimento produttivo però rappresenta rappresentato anche la possibilità di essere corredato da altri progetti connessi in modo particolare anche qui ricerca e sviluppo, innovazione energetica, ambientale e la formazione dei lavoratori un bando che ha riguardato sia le aziende presenti in tutto il territorio che alcune di queste riguardanti invece le aree di crisi come vediamo in questo caso, anzi diciamo che la cifra almeno maggiore di relativamente di poco diciamo rispetto alla metà poco oltre la metà rispetto al contributo regionale è proprio rivolta agli investimenti sull'area di crisi l'area di crisi conoscete meglio di me, quindi parliamo della zona dell'Ascolano, del Fermano Maceratese e del Fabrianese quindi la metà, comunque più o meno la metà dei progetti presentati perché 12 progetti e anche qui di posti di lavoro sono incrementati circa la metà 473 su 800. Andiamo avanti, così vediamo anche esattamente allora qui è la differenza tra grandi imprese e piccole e piccole e medie imprese voi sapete che la nostra regione è una regione soprattutto fatta di PMI, le PMI caratterizzano anche il tessuto industriale, il tessuto economico non solo della regione Marche, un po' della nostra Italia però allo stesso tempo abbiamo anche le grandi imprese che comunque hanno una funzione importante perché diciamo fanno anche spesso, lo sappiamo bene, da traino rispetto proprio al sistema produttivo di una regione quindi comunque avere un bando che riesce, è riuscito a dare delle risposte sia alle grandi imprese che alla PMI sicuramente è un risultato che guardiamo con assoluto interesse e soddisfazione quindi come vedete, scusami un passo indietro, come vedete quindi 7 progetti grandi imprese 5 nelle aree di crisi che ho appena descritto, 295, 366 sono le assunzioni per le grandi imprese 295 nelle aree di crisi, il totale abbiamo ricordato prima di 803 assunzioni mentre per le PMI parliamo di 18 progetti approvati, 7 nell'area di crisi 178 le assunzioni e nelle aree di crisi su un totale di 437 andiamo avanti allora qui praticamente come vi dicevo prima è stato un po' suddiviso il contributo regionale e anche relativamente agli investimenti che poi sono stati generati quindi gli investimenti produttivi, il contributo regionale è stato che riguardava ovviamente il tema del bando 28 milioni e 400 mila euro per una generazione di investimenti di 154 milioni di euro sulla ricerca e sviluppo 2 milioni e 3 che generano praticamente tre volte tanto 5 milioni e 9 sull'innovazione delle PMI un milione e mezzo il contributo regionale sviluppa 3 milioni e 100 mila sull'innovazione energetica ambientale 4 milioni e 5 sviluppa 12 milioni e 6 e poi c'è anche una piccola parte ma assolutamente altrettanto importante che riguarda la formazione del personale e anche poi le assunzioni delle categorie fragili di circa 800 mila euro di contributo regionale per investimenti generati di un milione di euro io questa tabella mi fa venire anche in mente rifaccio un po' così vedo che nel frattempo arrivano e diamo il benvenuto anche ad altre persone come nel frattempo la regione con le nuove risorse della nuova programmazione si sta muovendo proprio anche in linea rispetto a queste voci attualmente c'è un come ricordavo prima un bando importante sulla ricerca di 45 milioni di euro fra un po' partiremo con un bando sull'innovazione di 27 milioni e 500 mila euro per quanto riguarda l'energia oltre a stiamo cercando le risorse per incrementare il bonus energia sapete, immagino molti alcuni dei presenti forse avranno anche partecipato a quel bando di sostegno alle spese delle bollette luce e gas tra il 2021 e il 2022 di 5 milioni e 4 adesso faremo un incremento per far scorrere la graduatoria però diciamo l'aspetto importante è che fra un po' attiveremo un bando sui 25 milioni di euro per il sostegno alle imprese relativamente a progetti di risparmio energetico efficientamento energetico installazione di pannelli fotovoltaici e quant'altro per produrre da fonti sostenibili energia elettrica e quindi ecco siamo in una fase fra un po' partirà anche un bando sulle start-up innovative sono quasi 10 milioni di euro un bando sull'internazionalizzazione quindi per le aziende che vogliono andare all'estero sono altri 29 milioni di euro più con il dirigente Bertini che ringrazio soprattutto per questo bando che ha curato personalmente con grande anche fatica perché come potete immaginare e come vi sto illustrando è un bando veramente importante per la complessità ma anche per i risultati che ci auspichiamo di ottenere da appunto da questo importante investimento per le imprese ma anche per la regione Marche a breve faremo, presenteremo altri due bandi uno di circa 10 milioni per l'artigianato e un altro bando sempre quasi 10 milioni che riguarda soprattutto i presenti per le PMI industriali quindi insomma mi sembra di aver fatto un quadro e questo è tutto entro la fine dell'anno quelle cifre che vi ho detto quindi insomma stiamo per immettere per le imprese sul territorio marchigiano un intervento che così mi sembra tra i due e trecento milioni di euro più o meno poi lo andiamo a quantificare in fatto di risorse per appunto cercare di sostenere le imprese e moltiplicarne anche gli investimenti e ovviamente i profitti andiamo avanti allora sì qui sono dettagli più tecnici poi magari va Bertini ce li illustra andiamo avanti se ci sono vediamo altre cose questo poi magari parla nel capo sulle PMI dopo parla vediamo se ci sono ecco l'impatto comunque come vedete quello che a noi interessa in modo particolare è quanto noi riusciamo a generare un fatto di investimento questo è fondamentale cioè ormai parliamoci chiaro i contributi ci sono no? avete visto ne ho parlato ce ne sono anche per altre in altre misure ci sono altri per altri comparti per altri settori siamo in un periodo molto importante da questo punto di vista perché una congiuntura particolare si stanno concentrando soprattutto nella regione Marche ma non solo tante risorse no? dal Port Fesre che già andremo a gestire circa un miliardo di euro fondi poche parliamo anche di agricoltura l'ex PSR adesso CSR sono altri 400 milioni di euro abbiamo anche fondi sulla pesca marittima abbiamo il PNRR cioè ci sono veramente tutto in questo periodo partono le varie programmazioni allora è importante che sappiamo in qualche modo creare delle opportunità perché come spesso diciamo in questi incontri di fatto noi stiamo un po' prefigurando e costruendo disegnando quella che sarà la nostra regione per i prossimi 15-20 anni almeno con diciamo la possibilità che abbiamo adesso di intervenire allora dare un contributo nel senso dare prevedere un contributo finanziando dei progetti è fondamentale sapere che questo contributo avrà una diciamo uno sviluppo avrà una generazione importante no? nel proseguo quindi non siano interventi di fatto isolati o effimeri ma possono diciamo avere anche una prospettiva sulle politiche industriali delle imprese ma quindi anche della nostra regione tra l'altro vi apro una parentesi stiamo facendo anche un lavoro molto importante sul credito uno dei problemi più grandi in questi miei mesi di ascolto nel territorio è proprio la diciamo difficoltà per molte imprese di accedere ai sistemi creditizi e come regione abbiamo appena applicato una misura di novantuno milioni di euro a favore dell'abbattimento dei tassi di interesse delle garanzie e ci stiamo appunto muovendo e fra un po' vi diremo anche come metteremo come utilizzeremo quali strumenti vi daremo per accedere a questi fondi però ecco ci stiamo veramente cercando di muovere in maniera complessa e ampia per cercare di dare tutte le risposte possibili in questa fase veramente importante qui vedete le aziende che sono state coinvolte le piccole e medie imprese ma anche le grandi aziende poi Bertini magari ci farai anche un focus appunto se vuoi nel senso su alcune magari anche particolarità di questo di questo piano questa è la esattamente qui abbiamo allora voi sapete che la regione Marche ha stabilito degli ambiti che chiamiamo ambiti relativi alla strategia di specializzazione intelligente soprattutto rispetto alla ricerca all'innovazione a quello che appunto quelle che sono un po' i segmenti e gli indirizzi di sviluppo industriale della nostra regione questi sono gli ambiti all'interno dei quali si sono sviluppati i progetti come sapete la nostra regione dal punto di vista della meccanica è assolutamente all'avanguardia con molte aziende infatti i progetti non a caso per la maggior parte per la metà riguardano proprio la meccanica l'engineering con 505 addetti previsti e 13 progetti casa arredo sistema di vita 5 progetti 131 addetti poi c'è il sistema moda abbigliamento calzaturiero eccetera con 5 progetti e 126 addetti il mondo relativo ai servizi della salute e biomedicali con un progetto e 20 addetti e poi cultura educazione un progetto e 21 addetti qui da qui mancano altri due ambiti perché di fatto ne sono sette quelli che noi abbiamo individuato che sono l'agriindustria e l'altro e i servizi in generale che mancano però questa è una scelta ovviamente di quale aziende hanno partecipato poi allora questi sono ecco questo è molto interessante perché di fatto vedete questi sono i 25 progetti 10 riguardano nuovi impianti 11 espansioni di impianti esistenti e 4 riutilizzo di impianti inutilizzati quindi diciamo un assoluto equilibrio tra delle nuove tipologie di impianto un'espansione di quello che è esistente e più giustamente anche una parte di riutilizzo sì allora nel dettaglio questo l'avevamo un po' qualcosa avevamo sugli investimenti proprio produttivi abbiamo detto prima che era la parte ovviamente più più importante quindi dei 37 milioni e 6 ben 28 e 3 sono per gli investimenti produttivi qui sono quelli che generano ovviamente più investimenti 154 milioni 7 le grandi imprese 9 le medie imprese e 9 le piccole imprese poi questa è la ricerca e sviluppo 2 milioni e 3 lo leggete da soli 6 milioni di investimenti generati 3 grandi 2 medie e 2 piccole innovazione delle piccole e medie imprese quindi ovviamente qui la grande impresa non era non era rivolta alle grandi imprese 3 milioni e 100 investimenti generati 1 milione e mezzo di contributo regionale 6 milioni per le medie e 6 per le piccole innovazione qui parliamo di energia ambiente e vedete anche qui inizia a c'è un'attenzione particolare verso tutto il settore energetico 4 milioni e mezzo come il contributo che generano 3 volte tanto 12 e 7 più 2 grandi imprese 7 medie e 4 piccole imprese poi la formazione qui abbiamo 2 imprese 6 medie imprese e 4 piccole imprese che sono state che hanno riguardato appunto queste imprese poi andiamo avanti le categorie fragili 330 mila euro riguardano una grande impresa 3 medie imprese e 2 piccole imprese a posto di fatto abbiamo abbiamo finito quindi ribadisco un momento importante perché effettivamente con questa approvazione della graduatoria siamo veramente pronti per fare un salto importante coinvolgendo ben 25 aziende e con tutto ciò che appunto abbiamo detto all'inizio comporta l'aspetto uno degli aspetti ovviamente dicevo i due aspetti che amo sottolineare che voglio sottolineare che per la regione sono fondamentali è questa generazione moltiplicazione di investimenti quindi abbiamo detto 37 milioni e ne per diciamo generare 177 milioni di investimenti e 803 sono i posti minimi di incremento di lavoro previsti quindi diciamo che da domani la regione Marche sarà una regione con più posti di lavoro che genera più ricchezza e dà delle prospettive interessanti in un momento in cui ne abbiamo assolutamente bisogno quindi io vi ringrazio per la presenza e invito sicuramente io ho trascurato dei dettagli come è normale che sia e naturale e umano che sia allora invito il dirigente Bertini che se ne è occupato fin dall'inizio con grande veramente applicazione a intervenire laddove io abbia lasciato qualche avuto qualche lacuna grazie grazie Silvano non è per piageria ma credo che hai detto quasi tutto quindi c'è poco da aggiungere penso che l'assessore abbia evidenziato molto la logica di questo bando che vuole essere diciamo una risposta importante anche al fatto che siamo diventati una regione in transizione che abbiamo avuto delle crisi industriali negli ultimi nell'ultimo decennio diciamo abbastanza importanti quindi bisogna rilanciare un po' eh l'occupazione la capacità di produzione industriale eh molti sicuramente non tutti ma una buona parte dei beneficiari sono qui presenti quindi possiamo dire che si forma un club delle imprese che crescono nelle marche eh questo impegno questo questo impegno a crescere diciamo sarà surrogato come ben sapete da un contratto quindi ci sarà un impegno a rispettare non solo a realizzare il progetto per come l'avete presentato i progetti perché quasi la maggior parte di voi ha più di un progetto come è stato evidenziato ma soprattutto a garantire l'impegno occupazionale che è stato che è stato previsto e che rappresenta appunto un impegno contrattuale da realizzare entro la fine dell'accordo che sarà triennale o al massimo diciamo se verrà richiesto nei 12 mesi nei 12 mesi successivi ehm come evidenziava l'assessore eh abbiamo situazioni diverse tutte secondo me importanti perché abbiamo le imprese del territorio che crescono che si espandono questo è un dato molto positivo diciamo abbiamo imprese che vengono nel nostro territorio e in alcuni casi abbiamo imprese che proprio sono venute da fuori a rilevare aziende che erano andate in crisi o strutture che erano andate in crisi per rilanciarle per rimetterle per rimetterle in piedi forse non sono potute venire proprio queste ma sono comunque segnali positivi che la nostra regione è comunque attrattiva diciamo per queste cose nonostante che ci siano stati crisi ci sono al di fuori della nostra regione e anche dall'estero imprese che sono interessate ad investire da noi anche rilanciando strutture persistenti abbiamo ho visto entrare diciamo così un'impresa che era praticamente defunta e che viene rilanciata anche col supporto diciamo del fondo salvaguardi imprese quindi abbiamo tutte situazioni che mostrano che la nostra regione ha una grande vitalità nel frattempo diciamo che intercorso dalla presentazione di queste domande a questa approvazione abbiamo avuto altre segnalazioni diciamo quindi vuol dire che insomma il tessuto è vivace non so se riusciremo a fare un altro intervento di questo genere anche perché c'è la tempistica del PORFES però abbiamo come diceva l'assessore molte altre opportunità anche diverse più specifiche che possono supportare diciamo programmi di investimento di innovazione e di espansione io non aggiungo altro se ci sono ovviamente anche le imprese se vogliono dire qualcosa siamo qui sia a ricevere domande che a ricevere commenti grazie grazie a tutti la prima classificata Diatek Pharmacogenetics possiamo solo ringraziare per questa opportunità per noi è una conferma di espansione dello stabilimento passiamo dagli attuali 6.000 metri a 10.000 metri quindi aggiungiamo 4.000 metri e siamo anche molto orgogliosi di rappresentare il biotech nella regione Marche speriamo di essere l'avvio di un cluster di imprese biotecnologiche che si insedino nella nostra regione grazie nessun altro? ci sono altri commenti altre domande chiarimenti? quando firmiamo? allora adesso abbiamo richiesto la documentazione per l'attestazione antimafia che spero sia senza problemi per tutti però ci vorrà i tempi tecnici per avere l'ok dalle prefetture e dopo di che direi da luglio incominciamo a firmare i contratti con gli accordi diciamo con tutte le imprese diciamo c'è qualcuno che sta parlando? o no? benissimo allora se non ci sono altre domande abbiamo concluso come ricordavamo occhio agli altri bandi perché adesso tra l'altro vedo anche la dirigente Bussoletti che si occupa dell'altra parte dei bandi importante del PORFESRE quindi seguiteci perché appunto ci sono tante tante opportunità grazie e buona giornata a tutti applausi grazie grazie grazie